buonasera e ben ritrovati a qualla zampa parliamo del gufo in particolare del gufo comune è un animale che popola i nostri boschi ed è ha proprio una vita notturna quindi è un animale che potete sentire soprattutto nei nostri boschi durante la notte ma è di difficile avvistamento e caccia una grande varietà di piccoli animali come topi e talpe scoiattoli pipistrelli ratti uccelli insetti durante il giorno dorme nelle cavità degli alberi o un qualche vecchio rudere e si mimetizza perfettamente dato il suo piumaggio bruno macchiettato e pensate che il gufo non può muovere gli occhi però in compenso riesce a ruotare la testa di 360 gradi tra marzo e maggio è nidifica e ad in circa depone 4 5 uova per covata può utilizzare un vecchio nido di qualche altra specie oppure depone le uova a terra sotto qualche albero qualche cumulo di legna secca o di foglie è l'unico rapace notturno che in inverno si riunisce appollaiato questo significa che potete trovare in alcuni punti del bosco dei rami su cui questi uccelli durante il giorno si radunano in numero anche di 10 20 unità e questo è il modo in cui poterci insire e quindi contare il numero di gufi presenti in un tal bosco alla sera invece prendono il volo proprio per dedicarsi alla caccia che avviene proprio durante tutta la notte fino che al mattino si ritrovano sempre nello stesso posto si riuniscono per riposare durante il giorno bene per questa sera è tutto ci vediamo settimana prossima arrivederci